Chi non legge a 70 anni avrà vissuto una sola vita, la propria. Chi legge avrà vissuto 5.000 anni. C'era quando Caino uccise Bele, quando Renzo sposò Lucia, quando Leopardi ammirava l'infinito, perché la lettura è un'immortalità all'indietro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Nel mondo globalizzato di oggi, il milione rimane rilevante perché inspira il dialogo e le comprensioni tra est e ovest. Baron Perché, Vitalo Calvino. Le Alto Montagne, Paolo Cognetti. Sostiene Penera, Paolo Cognetti. È ora di leggere il libro, di vedere il mondo, di conoscere le persone, di ammirare le culture e di capire quanto siamo diversi eppure simili come esseri umani. Con questo viaggio nel testo medievale vi auguro buona lettura.